Siamo emozionatissimi perché in questo momento siamo all'NH Congress Center ad Asago e come sapete questo weekend ci sarà la All Inners Conference, molte persone che mi seguono, che seguono Fabio, saranno presenti qua a Milano a questo evento pazzesco di trasformazione personale, evento nel quale succederà qualcosa, giusto? Esatto, l'ultima settimana abbiamo lavorato con i nostri super mentor perché anche noi ci affidiamo ai migliori nel settore quando facciamo operazioni in cui non siamo chiaramente esperti, in cui lavoriamo tutti i giorni, che è la pubblicazione del nostro nuovo libro. Chiaramente abbiamo preso una scelta, abbiamo fatto una scelta di autopubblicarlo per una ragione, perché lo vogliamo pubblicare quando ci pare a noi e quindi era pronto e non volevamo andare là fuori a cercare la casa editrice. Quando tu hai potere, sai fare marketing, puoi fare quello che vuoi. Quindi abbiamo deciso di autopubblicarlo e da qualche mese a questa parte abbiamo lavorato con i migliori esperti del settore per, diciamo, lanciarlo nel modo corretto. Quindi questa diretta è dedicata al prelancio del libro All Inners. C'è da dire una cosa, è un prelancio, è solamente un annuncio questo, è una conferenza stampa che abbiamo fatto veloce e abbastanza improvvisata qua dall'hotel, però vogliamo annunciare questo libro un po' seguendo quella che è stata sempre la nostra filosofia, cioè quella di essere spontanei. Quindi il nostro business online, le nostre attività sono sempre nate dal nulla, da poco per poi diventare qualcosa di grande. L'abbiamo detto partiamo con questo prelancio dove intanto diamo la notizia, ti spieghiamo di cosa si tratta questo libro e molto presto sarà disponibile su Amazon, anzi in realtà sarà disponibile il preordine del formato digitale su Amazon da oggi, da questa sera. Esatto. E quindi vogliamo annunciarlo, è in preordine e poi metteremo il link tra poco tra l'altro nei commenti e poi tra un mese sarà possibile riceverlo. Ok? Facciamo vedere un po' il libro come è fatto. Allora in realtà prima di farlo vedere perché abbiamo anche la copia fisica che in realtà è una serie limitata, abbiamo stampato 200 copie limitate per chi partecipa alla conferenza, chi verrà alla conferenza e parteciperà con noi a questo lancio, potrà anche avvalersi dell'opzione di comprare la copia fisica che secondo noi è veramente fondamentale, ok? Quando tu compri un libro, se sei come me io voglio avere il libro in mano perché il libro ha un certo potere, no? E lì ci sono dieci anni della nostra vita condensati in un percorso che è quello di diventare un all-inner, ovvero una persona che ha due opzioni, o molla o va all-in, cioè nella tua vita non hai altre opzioni. O lasci perdere oppure vai fino in fondo. E per questa ragione questo è così un prelancio che quando condivideremo il link, visto che l'abbiamo messo live pochi minuti fa e Amazon ci ha detto potete venderlo, non c'è neanche l'immagine, ok? L'immagine la vedi nella pagina di descrizione, ma poi quando vai su Amazon, l'immagine in anteprima Amazon è ancora lì che sta revisionando, quindi probabilmente non vedrai l'immagine lì, ma non preoccuparti, lo vedrai nella pagina di presentazione del libro che linkeremo a breve. Sì. E come ti ho detto questo è un prelancio. Il nostro obiettivo è fare best seller, ok? Non siamo qui per arrivare ai secondi, terzi. È un libro di trasformazione personale, innovativo. Nel mercato ci sono tanti libri di crescita, di aiuto, eccetera. Questo ti trasforma, ti trasforma in una persona che non si dà alternative. Per questa ragione abbiamo deciso di fare un mese di prelancio per poi lanciare il libro al triennale di Marketing Genius che è appunto la notte del 7 novembre, perché in realtà avevamo questo dubbio. Volevamo lanciarlo il 7, ma poi abbiamo detto, il tuo webinar al lancio è dato oltre mezzanotte. Sì, è vero. Quindi Marketing Genius è nata non il 7 e neanche l'8 novembre 2016. Per questa ragione abbiamo detto, quando lanciamo il libro, beh, alla fine di un altro webinar appunto della triennale che sarà l'8 novembre. Però tu puoi preordinarlo da oggi, quindi da oggi puoi partecipare alla nostra missione di andare best seller su Amazon. Allora, se sei interessato a ricevere il link, scrivi AllInner nei commenti, ok? Scrivi AllInner o scrivi AllIn, quello che ti pare, AllIn o AllInner, e ti mandiamo il link tra poco, ok? Quindi come diceva Fabio, è aperto in questo momento il preordine per la versione digitale del libro. Il cartaceo invece sarà disponibile solo per le persone che verranno alla conference. E che hanno partecipato al prelancio, quindi se viene all'AllInners conference domani o domenica, se domani è il ticket VIP, ci vedremo in sala, abbiamo una versione hardcover che sembra un gioiello, che però verrà messo a disposizione per l'acquisto solo a chi ha partecipato al prelancio. Esattamente. Ok, qui abbiamo una bozza. Qui abbiamo una bozza del libro, come puoi leggere il titolo è AllInners nella vita e due opzioni, o molli o vai all in, che è un po' il riassunto della nostra filosofia. Ora, ti voglio leggere per chi è questo libro, ti voglio leggere come spesso accade, uno prende il libro e lo giri subito e vuoi sapere cosa c'è dietro. Il libro dice, senti di valerli più ma non sei ancora riuscito a dimostrarlo? Vedi persone attorno a te raggiungere i propri obiettivi e ottenere risultati migliori dei tuoi nonostante tu sappia di valere più di loro? Sappiamo come ti senti. È stato così anche per noi, per molto tempo. Il successo sembrava irraggiungibile. Poi abbiamo scoperto un nuovo modo di affrontare la vita, una maniera totalmente diversa di vivere le sfide e superarle, che abbiamo chiamato Mentalità All In. In questo libro scoprirai anche tu i segreti di questa mentalità e sarai capace di ottenere risultati straordinari, in tutti i settori, nella tua carriera, nel business prima di tutto, ma anche nella tua vita personale e nelle relazioni. Imparerai il modo giusto di pensare, il modo vincente di pensare, che ti permetterà di superare ogni problema. Supererai le paure che ti bloccano oggi, capendo esattamente come sbloccarti. Vincerai la pigrizia e sarai in grado di diventare una persona che agisce e produce risultati. Gestirai il tuo tempo in maniera efficace, capirai cosa fare in ogni situazione. Raggiungerai i tuoi obiettivi seguendo un processo scientifico e infallibile. Proprio come un giocatore di poker che decide di mettere tutto quello che ha sul tavolo e andare all in per vincere, tu farai lo stesso per andarti a prendere ogni cosa che ti meriti in questa vita. Non ci sono altre strade. Non c'è un altro modo, non c'è nessun piano B per arrivare al successo se non diventare un all-inner. Ora che state la scelta, perché ricorda che nella vita hai solo due opzioni, o molli o vai all in. Mi vengono i brividi a leggere quello che c'è in questo libro. Anni di sofferenza prima di arrivare a sintetizzare tutto in un libro che ha 16 capitoli. Ok? Io voglio leggerti l'indice perché così capisci cosa c'è qua dentro. Intanto io ragazzi ringrazio tutti voi che vi state collegando. Ringrazio anche chi ha già ordinato il prelancio, il preordine su Amazon. Una cosa importante, come diceva Fabio, ecco come funziona se vuoi ricevere il libro. In questo momento sarà solo in preordine su Amazon in formato digitale. Il cartaccio non c'è, ok? Non c'è. Abbiamo stampato un'edizione limitata in cartaccio solo per le persone che vengono alla conference. Perché? Perché vogliamo fargli un regalo, una sorpresa. Esatto. Volevamo, sappiamo che per le persone che fanno chilometri e vengono c'è grande sacrificio e quindi abbiamo pensato di stampare una edizione limitata solo per le persone che verranno alla conference e che avranno ordinato il libro in prelancio. Perché se non partecipi al prelancio non sei un vero all in, non ci stai aiutando a mandare la voce là fuori. Perché è obbligatorio partecipare al prelancio per poter acquistare la coppia fisica? Perché con il prelancio su Amazon diventiamo best seller. Abbiamo tutte le carte in regola, penso di diventare best seller. Questo è il nostro obiettivo perché vogliamo creare il primo libro di trasformazione personale che è diverso dalla crescita personale. Si parla di trasformazione personale. Il primo libro best seller su Amazon di trasformazione personale. Quindi questo è il nostro obiettivo. Tutto quello che dovrai fare quindi sia che viene alla conference che non viene alla conference è andare sul link che riceverai tra poco, fare il tuo acquisto per il preordine su Amazon e dal 7 novembre potrai ricevere la tua copia digitale del libro in formato ebook e solo per chi viene alla conference sarà possibile, se hai partecipato al prelancio quindi se hai acquistato la versione digitale su Amazon, sarà possibile ricevere quella in cartaceo. Io ho tolto la sovracopertina perché essendo un hardcover, ok, c'è la sovracopertina che potrai togliere e poi dopo puoi anche guardartelo così. Io ti voglio leggere l'indice perché grazie all'aiuto di una grande professionista che chi viene alla conferenza la conoscerà, salirà sul palco con me all'apertura domenica, si chiama Carmen, siamo riusciti a riformulare la scrittura di questo libro per dargli un senso e per far capire anche a chi non ci ha mai visto chi siamo e per cosa ci battiamo e perché nella vita hai due opzioni. O sei un fallito o sei un all-in, non c'è una via di mezzo, ok? Quindi noi con questa filosofia ultimamente siamo riusciti a pescare i clienti che desideriamo cioè persone che sono all-in e quindi quando si formano con noi hanno risultati. Perché abbiamo visto una cosa, è una cosa che nessun altro formatore ti dirà là fuori perché vuole fare soldi e basta. Chi non è all-in, ovvero non ha un piano B, può fare tutti i corsi che vuole, non ce la farà mai. Questo è importante da capire. Per questa ragione noi abbiamo creato una cultura alla base della nostra, credo, nella nostra missione come professionisti per formare persone che pensano in questo modo. E ci mancava una guida pratica perché magari tu in questo momento hai un dubbio, dici ma sarò abbastanza per riuscire a farcela. Beh, se tu passi attraverso 16 capitoli, 307 pagine di questo libro ti assicuro che se arrivi alla fine tu sei un all-inner perché sarà dura, ok? Sarà una trasformazione, ci sono capitoli che ti faranno male e altri che ti faranno rinascere, ok? Adesso ti leggo l'indice perché immagino che vogliate capire l'indice. Fatemi sapere nei commenti se volete che vi riveli l'indice che non l'ho mai rivelato a nessuno, ma magari questa è la volta giusta, è la volta buona. Anche perché se non ti rivelo l'indice l'unico modo per saperlo è aspettare l'8 novembre. Oppure se viene alla conferenza e partecipi al prelancio allora potrai vederlo. E ti informo che i libri sono incellofanati, quindi o hai la fede e dici cavolo lo prendo, oppure non sei un vero l'inner. Quindi non prenderlo, per quello li abbiamo incellofanati in modo che tu, se vuoi la copy-art cover che è veramente un capolavoro, quando l'abbiamo vista ci siamo... è bellissimo, forse il più bel libro a livello grafico, ringrazio anche Alessandro Castaldini, Irene Flaborea che sono stati i due grafici con cui abbiamo lavorato per tre mesi. Ok, noi siamo andati su Fiverr a prendere un grafico da 5 euro. Abbiamo lavorato con professionisti italiani e loro sono veramente all-inner, perché mi ricordo le chiamate alla mezzanotte in cui dicevo Alessandro cavolo c'è una parola che gli manca una lettera. Per correggere questo libro ci abbiamo messo veramente due mesi, perché quando scrivi un libro ci sono sempre quell'accento sbagliato, l'avremmo riletto 20 volte, ma alla fine è la perfezione. Vai, vi leggo l'indice. Allora, capitolo 1, tu vuoi di più. Ok? Capitolo 1, tu vuoi di più. Perché se tu non vuoi di più, stai bene dove sei. Quindi non ti serve leggere questo libro. Questo libro è dedicato a chi vuole di più. Capitolo 2, l'inizio del viaggio. Devi capire esattamente qual è il percorso da fare. Te lo faremo capire con la nostra storia personale, perché io e Matteo, prima di insegnarti a diventare questo tipo di persona, l'abbiamo vissuto per anni. È stata una trasformazione che ha richiesto anni. E quello che vogliamo fare per te è trasformarti in tempo record. È possibile, perché noi avevamo una mappa. Noi ci schiantavamo, pensavamo veramente a volte di lasciar perdere, di tornare indietro. Matteo era il manager di un ristorante che aveva lasciato tutto, buttato i vestiti nel fiume. Ma poi nessuno gli assicurava che non sarebbe mai tornato indietro. Cioè è nato molto vicino. Sì, più volte. Quindi l'inizio del viaggio, All Inners, la nascita del movimento. Ok? La nascita del movimento, perché All Inners è un movimento di persone straordinarie, che non è nato ieri, è nato nel 2017, ma solo oggi siamo riusciti a metterlo su carta. Capitolo 4, tu sei l'eroe del tuo viaggio. In questo caso ti spiegheremo il concetto del viaggio dell'eroe rivisto da me e Matteo. Capitolo 5, parti dal fallimento. Capitolo 6, affronta le tue responsabilità. Capitolo 7, la sofferenza evolutiva. Questo è un concetto che ho personalmente ideato per giustificare il fatto che tu devi soffrire per eccellere. Ok? Perché molte persone dicono, cavolo ma è dura. E' ok se è dura. Quindi in questo capitolo tu capirai che quando sei in difficoltà devi celebrare quello che diciamo sempre. Però te l'abbiamo scritto qua così ce l'hai in mano. Dici vado a pagina 99, cosa c'è a pagina 99? La sofferenza evolutiva. Bam! Andiamo a vedere tipo una frase a caso. Ora puoi entrare nella seconda fase della sofferenza che dovrai affrontare per cambiare realmente le cose. La sofferenza evolutiva. Questa fase della sofferenza è molto più dura rispetto a quella precedente, che era quella statica in cui sei magari frustrato e non ti piace quello che fai. Dove la tua sofferenza si poteva ricondurre a uno stato di insoddisfazione. Ora che hai ribaltato la tua visione verso il concetto di sofferenza puoi proseguire con noi nel cammino che ti porterà alla seconda fase. Ok? Noi parliamo di pagare il prezzo del successo ed è esattamente questo che ti stiamo spiegando in queste righe. Quindi secondo noi pagare il prezzo, che te l'avranno detto in centinaia, che poi ti dice anche di pagare il prezzo gente che non l'ha pagato, si chiama sofferenza evolutiva. Questo è molto importante. Capitolo 8 il mindset all inner. Devi capire come pensiamo. Se non capisci come pensiamo non ce la farei mai arrivare alla fine. Capitolo 9 impari a scegliere. Abbiamo dedicato un intero capitolo a come scegliere che strada prendere. Perché questo è uno dei drammi più assoluti. E lì ho sintetizzato il mio metodo che si chiama metodo sigma che è diventato un po' una leggenda perché facevo consulenza su questo metodo e poi ho smesso di farla. Perché era difficile per me a volte assorbire anche storie molto difficili e quindi cavolo mi prosciugava l'energia ma comunque l'ho voluto mettere a tua disposizione scritto così puoi leggerlo in qualsiasi momento. Capitolo 10 concentrati su di te. Isolamento. Capitolo 11 supera le tue paure. Capitolo 12 agisci. Capitolo 13 effetti collaterali. Ci sono degli effetti collaterali. La maggior parte sono positivi. Sì. Te ne leggo uno così non ti spaventi. Andiamo a vedere. 216. Leggiamo questo. Effetto collaterale. Vediamo qual è più interessante. Vediamo. Sono tutti interessanti. Proveranno a convincerti di lasciar perdere. Quindi quando tu fai questo tipo di percorso proveranno a convincerti di lasciar perdere. Fammi sapere nei commenti se qualcuno ti ha già provato a convincere di lasciar perdere. Se sei già nel percorso di cambiare. Le persone attorno a terra agiranno e lo faranno in maniera insistente e sconsiderata. Durante la lettura hai sviluppato una corazza quasi impenetrabile che ha fatto sicuramente breccia nella tua mente. Ricorda tu sei lo specchio del fallimento altrui e quando inizi a vincere nella vita inevitabilmente chi ha un minimo di influenza su di te proverà a fermarti provando a convincerti di lasciar perdere. E dopo ti diciamo com'è evitare che ti fermi. Poi dopo tu e gli altri capitolo 14 qui ti parliamo di proprio di questo aspetto come le persone proveranno a fermarti. Però tu non ti fermerai nel capitolo 15 andiamo tu per gli altri diventerai tu la guida per altri come te. E capitolo 16 il successo. Il successo è l'ultimo capitolo prima della conclusione. Diciamo che questo libro ti guida dal punto zero. Cioè se sei una persona che vuole di più, se sei una persona che sente che sta andando col freno a mano tirato, se sei una persona che sente che in questa vita veramente non ha mai vissuto il proprio potenziale, partiamo da lì, dalla situazione in cui ti trovi adesso, da quello che può essere il tuo background, le persone attorno a te, quello che ti è successo nella tua vita, i fallimenti, è tutto ok. Perché oggi parte un capitolo nuovo della tua vita. Oggi inizi il cammino che noi chiamiamo il viaggio dell'eroe. Te ne parliamo del viaggio dell'eroe all'interno del libro. È il viaggio che tu devi fare. Devi passare attraverso tutte queste fasi oscure, difficili, per poi diventare una persona nuova. E da lì puoi avere il successo. Saprai come pensare, saprai come muoverti, saprai cosa fare, saprai come prendere decisioni. E quelle decisioni sono quelle giuste. Sono quelle giuste perché vengono dalla tua anima, da quello che realmente vuoi e non sbaglia mai. Ok? Da lì ti portiamo al successo. Quindi dalla fase in cui magari sei un po' sperduto al capire qual è la tua via e ti diamo i mezzi, soprattutto con un libro ricchissimo di nozioni pratiche. Sono pratiche, sono pratiche. Nozioni pratiche su come organizzare la tua giornata, su come pianificare i tuoi obiettivi, su come capire quello che è giusto da quello che non è giusto, da come capire quali persone allontanare e quali invece tenere vicine a te nella tua vita. È tutto qua dentro in questa opera che si chiama All Inners, ok? Esatto. Quindi il famoso viaggio dell'eroe è un viaggio di trasformazione in cui molti falliscono a metà, cioè mollano, perché è dura. Moltissimo. Quindi l'unico modo di fare il viaggio dell'eroe è portarlo a termine, diventare un esempio per gli altri, diventare un All Inners. E noi ti spieghiamo come fare. Quindi il senso logico dell'opera è stato veramente messo giù in maniera semplice, chiara e pratica, grazie anche all'aiuto di Carmen che ci ha dato la mappa per… perché lei ci ha detto, ragazzi, se voi lo strutturate come pensavamo di strutturarlo… È bello ma non si capisce, no? È bello ma solo chi vi conosce lo capisce. Se invece lo strutturate così, anche il lettore Mario, che non vi ha mai visto, potrebbe diventare un All Inners. Quindi vi ho detto, allora facciamo… l'abbiamo riscritto da zero. L'avevamo finito a giugno? Era pronto? L'abbiamo riscritto da zero. Io a luglio, io a Matteo… Luglio, spiaggia, mare, aperitivi… Io a Matteo Vittaluga fino alle 3 di notte, ogni santo giorno, a riscrivere il libro. È stato un massacro, ma in questo momento è pronto. Ok? Quindi… Voglio chiarire una cosa importante sul concetto di trasformazione personale. Questo è un libro che ne sentirei parlare spesso, dentro il libro, nella pagina di descrizione, su Amazon, se faremo best seller, come mi aspetto. È un libro di trasformazione personale. Cosa vuol dire? Beh, ci siamo resi conto che la crescita personale… Troppo lenta. Non va più bene. Sì. È troppo lenta. Perché tu, se sei impostato male e cresci… Io dico sempre una frase che non è bellissima, non è molto elegante, però te la dico, è… Se sei una testa di cazzo e cresci, diventi una testa di cazzo più grande. Ok? Quindi, realmente, la crescita personale… Espanditi, ma se tu sei sbagliato, sei messo male, non sei programmato bene e ti espandi, diventi una versione più grande di quello che sei già. E tu non vuoi diventare una versione più grande di quello che sei già. Se già sei confuso, vuoi diventare più confuso? Se già stai… hai pochi soldi, non sei contento a livello finanziario, non sei contento nella tua vita, vuoi diventare ancora più grande così? No. Tu hai bisogno di trasformarti in una persona diversa. Non devi crescere, devi cambiare. È diverso. Devi trasformarti, non crescere. Questo libro ti dice come farlo. Ti dice come trasformarti in una versione diversa di te stesso, in una persona diversa di te stesso. Ti spiega esattamente come farlo passo per passo. Roba che io e Fabio abbiamo fatto, che io e Fabio abbiamo vissuto perché ci siamo trasformati da uno studente fallito, sfigato, messo male, a un barista, cameriere, portapizze, denigrato, preso per il culo da tutti, a imprenditori che fatturano milioni. Quindi ci sentiamo qualificati a scrivere questo libro e darti dei consigli giusti in base alla roba che abbiamo vissuto non solo noi ma tante altre persone che hanno seguito questi consigli perché sembra che chi vive attorno a noi, sta attorno a noi, migliora parecchio la propria vita. Per abbastanza tempo. Per abbastanza tempo. Infatti abbiamo anche scritto questo libro per darti chiavi in mano il nostro modo di pensare in modo che tu capisca esattamente come accelerare il processo di cambiamento del mindset. Perché molte persone che ci seguono comprano magari i nostri corsi, i nostri percorsi di formazione, ma poi il mindset arriva dopo. Io voglio che arrivi prima. Quindi se ti stai formando con noi devi leggere questo libro. Metti in pausa tutto, leggi il libro, poi torna a formarti. Allora, scrivi libro nei commenti. La facciamo facile. Scrivi libro nei commenti. Se scrivi libro nei commenti ti mandiamo il link per il preordine su Amazon. Lo metterò anche sopra in questo video su Facebook, qua sopra e se sei su YouTube in questo momento lo metterò in descrizione. Ti spiego di nuovo come funziona. In questo momento è solo e unicamente disponibile la copia digitale. È possibile preordinare solamente l'ebook. È una cosa che ci ha chiesto Amazon e che abbiamo deciso di fare. Quindi non c'è cartaceo, ok? L'unico modo da avere il format fisico del libro è solo e unicamente per chi viene all'evento dal vivo. E ha partecipato al prelandino. Esatto, e ha partecipato. Quindi il primo step da fare per tutti è andare sul link. Il link è allinners.com slash libro. L'ho messo qui in descrizione. Lo metto qua sopra e lo metto anche sotto. Lo metto anche nei commenti se c'è qualcuno del supporto. Mettetelo nei commenti. Il link è allinners.com slash libro. Primo step acquistare il preordine. Ok? Fai il tuo preordine. Se... E quanto costa il preordine? Costa 9 euro. 9 euro e 90. 9 euro e 90. Ok? Allora, chi non ordina il preordine, cavolo ragazzi, fatevi una domanda. Quando sei davanti a quella pagina dici 9 euro e 90. Cos'è che costa 9 euro e 90 oggi? Ma neanche una pizza. Una pizza? Questa volta è a 10-11 euro ormai. Sì. Però se bevi un tè, anche se prendi la pizza da sport in piedi, ti costa 9 euro e 90. Sì. Quindi pensaci bene e fai un regalo anche alle persone attorno a te. Perché se sei magari un leader, fai network marketing, hai un'azienda. Io voglio che questo libro lo legga tutto il tuo team. Ecco, il link in questo momento è in descrizione. Io ti assicuro che se tu fai questo regalo a qualcuno è il miglior regalo che gli puoi fare. Ecco allora, Martina ha fissato... Se sei su Facebook il link è qui sotto. Lo mettiamo anche in descrizione, ma lo dovresti vedere qua sotto adesso. Se sei su YouTube è in descrizione. Ok? Ripetiamo gli step. Il primo step per avere il libro è partecipare al preordine su Amazon. Ok? 9,90 euro. E tra un mese esatto riceverai la tua copia digitale su Amazon. Tra un mese esatto. Se invece viene all'evento, devi comunque fare il tuo ordine su Amazon dell'ebook e potrai acquistare poi la copia fisica all'evento. Ok? Potrai riceverla. E domani all'evento. Per chi ci sta guardando sta per venire all'evento. Se anche sei domani VIP avremo il nostro stand e ci saranno le hostess che ti chiederanno lo screenshot del tuo preordine ebook. Ok? Abbiamo deciso per chi fa il preordine dell'ebook che viene all'evento potrà acquistare la copia fisica che a noi ci è costata 15 euro a 15 euro. Quindi abbiamo deciso di darvela senza fare nessun margine. Non ci interessa fare soldi. Non è un business fare un libro. Per noi è... Condividere. E veramente finalmente dare chiave in mano una mappa per aiutare le persone a pensare come noi. In questo modo tu... Quindi riassumiamo gli step. Step. Se non vieni all'evento... L'unico modo è il preordine digitale su Amazon. Ok? Se non vieni a Milano e vuoi leggere il libro, l'unico modo è in formato digitale su Amazon. Quindi è solo in ebook. Ok? Il link è qui sotto, allines.com slash libro. È l'unico modo. Fai il tuo preordine e il 7 novembre sarà disponibile al download, allo scaricamento su Amazon. Se invece vieni all'evento devi comunque fare il tuo preordine su Amazon e poi se vuoi anche la copia fisica la puoi prendere qua all'evento. La copia fisica la vogliamo dare solamente a chi ha partecipato al prelancio su Amazon. Perché è importante questo? Perché se ricevi la copia fisica da noi, Amazon non può sapere che l'abbiamo venduto. Non ci traccia questo, non ci permette di dichiarare queste vendite del libro. Quindi l'unico modo per diventare best seller è avere il preordine su Amazon. Quindi devi comunque fare il tuo preordine su Amazon. Questo per noi è molto importante, spero che tu lo capisca perché è un successo di tutti. È un successo di tutti perché vogliamo che questo libro sia best seller su Amazon. Non vogliamo più vedere libri di crescita personale che non ti dicono cosa fare, che ti danno concetti e zero pratica. Astratti. Non vogliamo più roba astratta, non vogliamo più libri. Quanti anni abbiamo perso noi con la roba astratta? Troppi anni. Cioè in realtà perché abbiamo deciso di scendere in campo con roba pratica di trasformazione? Perché noi abbiamo perso anni della nostra vita con libri di crescita personale astratti. Quindi ogni volta ci chiedevamo ma come facciamo la roba? E a quel punto abbiamo deciso. Già le persone, Gerardo l'ha appena preordinato, grazie di cuore. Grazie di cuore. Grazie Riccardo l'ha preordinato. Antonio l'ha preordinato. Cavolo stanno già preordinando tutti. Ragazzi, io vi dico grazie veramente in anticipo. Anche perché è merito vostro. Se facciamo il best seller sarà merito vostro. Il best seller è vostro. Sentiti parte, è un modo per celebrare la community per noi, per celebrare le persone che ci seguono. Per questo ti diciamo preordinalo. Realmente ragazzi non guadagniamo niente da questo libro. Ok, zero. Non è un business per noi. L'ebook costa 9,90 euro. E il libro fisico poco di più. Quindi... Il libro fisico, se volete i costi. Perché io ci ho fatto anche un get the money. Ho fatto un episodio. Vi ricordate quello in cui vado in giro per le tipografie? Il libro fisico ci è costato 3.000 euro 200 copie. Quindi sono 15 euro a copia. Vi faccio vedere... Se vuoi sei all'evento ti faccio vedere i conti precisi. Abbiamo detto... Non è... Lo mettiamo a 20? No. E tu mi hai guardato e hai detto no, 15. Perché psicologicamente noi vogliamo fare zero profitto. Non ci interessa niente. E andare best seller con tutti voi. Per noi l'obiettivo è fare best seller. Vogliamo fare best seller perché non è mai stato fatto da un libro di trasformazione personale. Soprattutto autopubblicato, occhio. Autopubblicato, è vero. Perché c'è chi esce con Mondadori. Facile. Perché chiaramente le grandi case editrici fanno tutti i magheggi lì. Compra quello... Ma ragazzi abbiamo scoperto una roba... Oscena. Oscena. Nel mondo dell'editoria abbiamo scoperto roba oscena. E quando abbiamo detto con chi lo pubblichiamo abbiamo detto noi. Da soli. Esatto. Lo volevamo filtri. Perché questo libro è molto diretto. Abbiamo scoperto roba oscena. E oltretutto quando a volte pubblichi con case editrici ti dicono anche cosa scrivere. Te lo filtravano sicuro. Esatto. Te lo censurano o comunque te lo vanno a moderare. Invece no. Qua c'è la nostra vita. Ok. Esattamente come l'abbiamo vissuta. Quindi penso che sia apprezzato anche lo sforzo da parte nostra di autoprodurlo. Come abbiamo sempre fatto, d'altronde. Esatto. Se aspetti che nella vita qualcuno ti dia le opportunità... Non sarebbe stato da all-inner. L'all-inner che va a chiedere l'aiuto di qualcuno per prodursi il libro. Non è un all-inner. Se sei un all-inner te le fai da solo le cose. Da autogol. Sì. Quindi questa è un po' la nostra mentalità. E siamo così all-in che questa settimana sembrava quasi impossibile arrivare alla conference con i libri fisici e il prelancio. Invece, last minute, grazie a Carmen, ti ringrazio in diretta che ci ha aiutato nel prelancio. Siamo tornati in diretta. Anche la telecamera è andata ad ordinare il libro. Io voglio ringraziare Diana che l'ha preordinato, Fitim che l'ha preordinato, Ione che l'ha preordinato. Adesso riappariamo. Abbiamo Pamela che l'ha preordinato. Ragazzi, io non so cosa dire veramente. Se volete fare un regalo a un vostro amico, ordinatelo. Ah, una cosa importante. Per chi ha la conference domani e volete regalarlo a Natale a qualcuno e approfittate che avete il libro fisico, dovete fare chiaramente anche il preordine per il regalo, ok? Quindi se tu arrivi con il tuo preordine, ordini la tua copia e poi vuoi fare il regalo al tuo socio che magari lo vedi a Natale, mi raccomando devi fare un preordine digitale anche per lui. E poi alla fine abbiamo visto che un libro fisico e uno digitale ti servono sempre perché alla fine magari sei in viaggio con il tuo smartphone, ce l'hai lì. A casa invece lo tieni lì come faccio io che c'è la libreria e non li sposto mai perché altrimenti si rovinano. E quindi fighissimo. Ragazzi, Dino l'ha preordinato, Massimo l'ha preordinato, Massimo Cardinali e Massimo Gallo. L'ha preordinato Francesca l'ha preordinato. Ragazzi, grazie di cuore. E' un sacco di nomi che saranno alla conference. Domani all'evento VIP cercheremo di tagliare un po' i tempi, quindi potrete ottenere la vostra copia fisica. E quando ce l'avete in mano dite, cavolo, è un capolavoro. Infatti quando l'ho vista la tipografia, va là che ho scelto quelli. Abbiamo fatto anche tutti i rilievi brillanti, proprio bello anche da tenerli e dire bello. Qualcuno chiede per l'audiolibro, al momento non è previsto. 2020 ce l'abbiamo. Al momento solo in formato digitale. E' una scelta che abbiamo fatto, ce l'ha consigliata Amazon, ha detto partite con ebook, quindi è solo ebook. L'unica eccezione è per chi viene all'evento che potrà avere la copia fisica, però se partecipa al prelancio. Quindi è fondamentale partecipare al prelancio del format digitale. E' fondamentale perché, ripeto, è Amazon che ha detto le regole e ci ha chiesto di fare questo. Esatto, un prelancio lo fai fisico, lo fai ebook. Noi abbiamo detto, lo facciamo ebook e premiamo con il cartaceo chi si sbatte per venire all'evento. Perché a Milano magari tu vivi in Sicilia, cioè ci sono gente, che ho visto oggi foto in bus, che venivano su perché chiaramente, oppure in aereo che arrivavano negli aeroporti e te lo meriti il libro fisico. Quindi è un premio e nella strategia di lancio abbiamo detto Amazon va bene l'ebook. E quindi audiolibro, ragazzi 2020, mi raccomando partecipate al prelancio perché lo dobbiamo registrare in sala di registrazione. Non è che lo registriamo in camera l'audiolibro, dobbiamo farlo bene. Però nel frattempo leggilo perché veramente sono stati notti in cui gli occhi sanguinavano. Io veramente non so. Abbiamo veramente dato prova che la mentalità da uno che non molla mai può riscrivere un libro da zero. Quando un esperto come Carmen ci ha detto ragazzi potete pubblicarlo così non c'è problema. Io vi consiglio di cambiarlo ma non ce la farete mai per la conferenza. Io gli ho detto Carmen ci vediamo alla conferenza. Non sai con chi stai parlando. Quindi se siete domenica salirò con lei e racconteremo anche questa storia. Ragazzi, grazie di cuore per aver visto questo video. Grazie a tutte le persone che stanno preordinando. Continuate a preordinare il libro. Obiettivo fare Best Sell su Amazon questo mese. Quindi dal 7 novembre sarà disponibile al download. Solo in formato digitale, ripeto, tranne per chi verrà alla conference che comunque deve fare l'ordine dell'ebook. Poi se vuole la copia fisica la può prendere qua alla conference domani dopo domani. Grazie di cuore ragazzi siamo emozionatissimi per questo primo annuncio del libro che uscirà tra un mese. Ok, quindi preordinatelo subito. Ci vediamo alla conference. Esatto. Per chi viene domani. Abbiamo la giornata con il Mastermind, Millionaire Mastermind con i Ticket VIP e domenica il grande evento. Chi ancora non l'ha fatto può ancora unirsi all'evento di domenica. Se ancora non hai il biglietto prendilo e vieni. Esatto. Quindi non aspettare altro tempo. Preordina il tuo libro. Se lo vuoi preordinare per un amico è il miglior regalo che gli puoi fare. Aiutaci a fare Best Seller. Ti ringraziamo davvero per partecipare a questo nostro obiettivo, il tuo obiettivo. Tu sei parte di questo movimento, questo modo di pensare. E per questa ragione quando faremo Best Seller perché non ci sono i piani B. Facciamo Best Seller grazie al tuo aiuto. Celeveremo tutti insieme proprio nel triennale di Marketing Genius il 7 novembre. Ti mando un abbraccio da parte mia. Grazie. E niente. Buona serata. Buona serata. Ciao.